Buone notizie per i napoletani che hanno in corso una causa tributaria con il Comune. Il nuovo regolamento, approvato ad agosto in Consiglio Comunale, su proposta dell'assessore al bilancio Enrico Panini, offre la possibilità ai contribuenti che hanno notificato un ricorso al Comune entro il 24 aprile 2017 di estinguere il giudizio pendente pagando esclusivamente l'imposta richiesta. Si fa riferimento a cause perici, IMU, TAR, SUTAR e STARI, imposta sulla pubblicità e di soggiorno, per le quali sarà possibile chiudere la controversia senza pagare ulteriori aggravi legati a sanzioni e interessi di mora. È un'opportunità che si aggiunge a quella già offerta della rottamazione delle cartelle esattoriali e si applica per le liti in ogni Stato e grado di giudizio. Entro lunedì 2 ottobre c'è tempo per presentare la domanda scaricando l'apposito modulo pubblicato insieme al regolamento sul sito istituzionale del Comune. Gli importi dovuti vanno versati entro la stessa data in un'unica soluzione se inferiori a 2.000 euro oppure dilazionati in tre rate.